ok oggi entriamo più nel vivo del programma di quest'anno iniziamo lo studio dell'analisi matematica che in alcuni contesti viene anche chiamata calcolo infinitesimale oppure calcolo differenziale e integrale secondo gli storici della scienza questo è lo strumento di conoscenza più potente mai creato dalla mente umana non c'è contesto scientifico in cui non intervenga la quasi totalità delle equazioni fondamentali cioè quelle che danno i meccanismi base in tutti gli ambiti scientifici sono parte di questo ramo della matematica per esempio la più la più utilizzata equazione che abbiamo fatto fino ad adesso è quella di newton f uguale a m per a questa è un'equazione differenziale cioè la cui trattazione completa avviene in questo ambito noi ce ne siamo occupati finora in casi a particolarmente semplici i casi in cui l'accelerazione ad esempio è costante nel tempo e nello spazio in quel caso la soluzione può essere svolta o effettuata o ricercata in ambito algebrico ma la la totalità degli ambienti nelle quali questa espressione si colloca che richiede questo strumento matematico da cosa nasce questo e newton ha creato questo ramo della matematica che prima non esisteva o comunque non nella sua configurazione quale il tutto gli ha data proprio per poter affrontare determinati ambiti di ricerca il suo caso il moto di corpi che prima erano intrattabili è vero che ci sono fondamenti del questo di questo ramo della matematica mi metteranno spetta in rosso che è particolarmente importante che ha radici molto antiche in particolare e udosso dico nido ma soprattutto archimede e fa in riferimento a che cosa beh per esempio a un problema di vecchissima data se io ho una figura poligonale per quanto strana ok posso calcolare nell'area semplicemente dividendola in triangoli di ogni triangolo so calcolare l'area base per l'altezza diviso 2 sommo tutti i triangoli sono ma se io ho una figura totalmente o parzialmente curva come calcolare non posso dividere in triangoli perché avrò sempre comunque un lato curvo ok in quel caso ho bisogno di una come si dice una estrapolazione cioè un passaggio al limite e questa idea chiave sta alla base di tutto il calcolo differenziale integrale questa è un'idea antica di udosso e poi sviluppata da archimede archimede cosa dice beh è vero che non posso calcolare direttamente l'area del cerchio perché è un contorno curvo però posso fare una cosa di questo tipo per esempio posso approssimarlo con un poligono regolare qui adesso faccio un esagono per esempio ok che ha sei lati ed è tutto contenuto dentro il cerchio quello si posso calcolare esattamente perché composto in questo caso da sei triangoli ok qui in questo caso un numero di lato che dati che vale 6 quindi avrò l'area di n triangolini cioè n volte l'area del triangolo che ha come lato uno dei lati del mio poligono regolare è chiaro che se io aumento n se faccio crescere il numero di lati la differenza tra il mio poligono e la circonferenza e quindi in questo caso il cerchio diminuisce cioè aumentando il numero di lati approssimo l'area che devo cercare ok e quindi l'idea chiave è questa che funziona anche nell'analisi moderna e questo è un'idea ripeto di archimede se n diventa molto grande allora l'area che ottengo approssimando il cerchio con un poligono di n lati diventa una buona approssimazione dell'area del cerchio completo che corrisponderebbe in questo caso ha infiniti lati quindi se volete il cerchio è un infinito in atto secondo la distinzione aristotelica non in potenza posso considerare il cerchio come un poligono di infiniti lati e lasciatemi nello scrivere ma a breve preciseremo meglio questa scrittura posso considerare il limite quando n diventa infinitamente grande anche questo sarà precisato in seguito della superficie di un poligono di n lati incluso nel cerchio e questo limite è esattamente il valore dell'area del cerchio con infiniti lati quello che c'è alla base è quest'idea che un'idea antica anche se è stata precisata in epoca moderna pensate che la l'idea il concetto attuale di limite risale a 150 anni fa mentre l'analisi il calcio differenziale integrale in metà totani uto sale a 300 e passa anni fa esiste anche una forma di analisi infinitesimale che non fa uso del limite l'analisi non standard che aggira questo problema però nel nel contesto standard che è lo che affronteremo noi il concetto chiave è quello di di limite prego c'è una domanda s la superficie chiedo scusa non ho detto s la superficie sn la superficie di un poligono di n lati contenuto nella circonferenza nel cerchio s infinito è quello del cerchio inteso come il limite a cui approssima il mio poligono quando il numero di lati diventa infinitamente grande ok d'accordo il calcolo delle aree di super fi di contorni che hanno il bordo totalmente o parzialmente curvo è quello che va sotto il nome di calcolo riferimento all'inizio di calcolo integrale estremamente in questa parte la parte precedente quella del calcolo differenziale fa appello invece cioè affronta un problema di quella del individuare o di gestire delle rapidità di cambiamento istantanei esattamente affronta il problema di descrivere grandezze che cambiano con continuità e quindi di descrivere il tasso la rapidità istantanea di variati cambiamento sarebbe come vi faccio un esempio adesso purtroppo quando non l'immagine ma è chiaro che se io vado allo stadio ed assisto a una gara che ne so di atletica vedo gli atleti che corrono giusto li vedono a correre continuamente quindi la loro posizione cambia continuamente ok immaginate di fare una foto che ne so ad esempio all'arrivo vedete tutti gli atleti lanciati d'accordo quindi se fai la foto davanti a te hai però oggetti fermi ma è chiaro che intuisci che dalla foto da quello che vedi una foto si stanno muovendo anche se in realtà sulla tua foto sono fermi quindi l'idea di quello che tu vedi nella foto che cos'è è l'idea della della velocità istantanea ok qual era in quell'istante la rapidità con cui cambia la loro posizione che puoi pensarla come un'approssimazione della velocità media cioè tu devi prendere due istanti di tempo diversi ben distinti calcolare la posizione nell'istante finale iniziale fare lo spostamento calcolare di quanto è cambiata la posizione e dividerla per l'intervallo di tempo che separa i due istanti e hai una velocità media quindi hai un un delta x una variazione di posizione diviso un delta t intervallo di tempo ok questa grandezza può essere una buona approssimazione o possiamo approssimare con questa la rapidità istantanea quando sia l'intervallo di tempo che lo spostamento tendono a zero cioè quando l'intervallo di tempo considerato è molto piccolo in quel caso la mia grandezza delta x delta t approssima la velocità istantanea ma dal punto di vista algebrico questa è una enorme sfida perché perché è uno zero diviso zero che algebricamente sono cinque anni che lo ripeto non si può fare algebricamente è un muro invalicabile ok non posso considerare un denominatore nullo il problema si risolve si supera meglio sempre quel concetto di limite anche in questo caso la velocità istantanea nel tempo che ne so t zero posso prenderla come il limite della velocità media tra l'istante t e distante t zero quando i due istanti t e t zero vanno a coincidere anche in questo caso uso il concetto di limite cioè di valore a cui questo rapporto tende o approssima man mano che questi due numeri tendono a diventare lo stesso numero e in questo caso appunto ho uno zero fratto però il concetto di limite mi aiuta superare questo muro algebrico ok tutto ciò che coinvolge rapidità di cambiamento è una grandezza che fa parte c'è un concetto che il pane quotidiano del calcolo differenziale siccome nell'universo tutto cambia continuamente è chiaro che uno strumento che mi dica che mi aiuti a gestire qualcosa che cambia nel tempo o nello spazio in funzione di qualsiasi altra cosa è uno strumento essenziale per questo è uno strumento di conoscenza così potente perché viene coinvolto in tutti i contesti in cui qualcosa cambia in funzione di qualcos'altro ok qui abbiamo in particolare il legame tra posizione scusate e tempo che cambia nel tempo la rapidità con cui la posizione cambia nel tempo che è la velocità può avere prego no ci sono due istanti di tempo diversi fammi tornare indietro ok calcolo la posizione è il tempo t la posizione è il tempo t 0 e ne faccio il rapporto con l'intervallo di tempo questo è il mio delta t questo però se io grado solo questo rapporto ho una velocità media dell'intervallo di tempo t t 0 se voglio la velocità istantanea quella per capirci dello scatto della foto degli atleti quando arrivano al traguardo faccio in modo che gli istanti di tempo diventi sempre più piccolo ok per avere quello che succede a t 0 in quell'istante lì t 0 un altro t quello che sia ma dal punto di vista algebrico mi sbatto il naso su un muro perché 0 diviso 0 non lo posso fare algebricamente mi serve per superare questo ostacolo il concetto di limite che è il concetto chiave perché come abbiamo visto riguarda sia le rapidità istantanee di variazione sia le aree di superfici o di aro di contorni curvilinei quindi mi aiuta a risolvere problemi che altrimenti non potrei risolvere o non potrei gestire e con l'algebra non ce la faccio arrivo fino a lì il limite mi fa superare questo confine quando mi scontro con cose che l'algebra non mi può dare risposte l'operazione 0 diviso 0 algebricamente è vietata il concetto di limite mi permette di superare questo ostacolo in alcuni casi ci sono casi in cui non si può fare ma in molti casi in molti casi il limite mi dà la risposta è una risposta sensata ok quindi se ho due grandezze legate da qualche relazione ok la rapidità con cui una cambia in questo caso abbiamo la x in funzione della del tempo è quello che chiameremo più avanti derivata ed è un limite particolare ok mentre l'area calcoliamo utilizzando un altro concetto che siamo integrale quindi la prima cosa che faremo meglio che rifare perché l'altra abbiamo già vista è andare a osservare questo legame che legame tra grandezze diverse quando ho una relazione quantitativa che possono definire che posso descrivere quanto effettivamente tra due grandezze diverse si dice che ho una funzione quando è che ho una funzione in matematica quando ho un legame tra grandezze diverse che sia di tipo univoco quelle funzioni intendiamo una relazione univoca quindi ho immaginate due insiemi l'insieme a che è un insieme b è un modo di associare gli elementi di a agli elementi di di b chiamiamola f che sia univoca cioè ogni elemento di a è in relazione con uno e un solo elemento di b in questo senso è univoca un solo elemento di b quindi mi spiego meglio esempio immaginate che sia a che b siano l'insieme dei numeri reali e gli elementi di a li chiamiamo x e quelli di b li chiamiamo y e che associo a a b in questo modo x appartiene ad a y appartiene a b e la funzione da ab è definita f di x uguale a x alla seconda in questo modo ho una relazione tra numeri reali e numeri reali univoca per e perché perché ad ogni numero reale x posso associare un solo quadrato ogni x ha un solo x alla seconda ok quindi questa è una funzione perché una relazione univoca 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 significa che qualunque sia l'elemento nell'insieme a c'è però ogni elemento di a la funzione f o meglio scusami ancora la relazione f lo associa lo mette in corrispondenza con un solo elemento di b forse più utile fare un contro esempio questa è una funzione attenzione facciamo un contro esempio se questo forse mio a questo forse b e questo elemento di a forse associato a due diversi elementi di b questa non è univoca perché ho un elemento di a associato a due distinti elementi di b è un esempio è un esempio te lo faccio come esempio se io prendo questa funzione quella che associa un numero reale il suo quadrato questa è una funzione perché è univoca perché ad ogni x c'è un solo risultato di questa operazione ogni numero un solo quadrato non numero che ha due quadrati diversi no y è questo questo lo chiamo y y è x alla seconda certo la funzione inversa del quadrato che è la radice ad esempio ok se qui o a sono i numeri e passo da a b con la radice allora il numero 9 è associato sia 3 che a meno 3 questo non è univoca perché perché il numero che ha come quadrato 9 è sia 3 che meno 3 ok la radice dell'algebrica non razionale solo ok oppure che ne so immagina che ci siano in a tutti quelli che sono titolari di un numero telefonico e in b i numeri telefonici può avere due cellulari diversi quindi questa non è una funzione oppure ancora in a abbiamo i gruppi sanguigni e b le persone di un determinato insieme che ne so un comune una provincia quello che vuoi tu ad ogni gruppo sanguigno sono associate tante persone non una sola quindi questa non è una funzione l'inversa si quello che associa le persone gruppo sanguigno è una funzione ma quello che gruppa associa scusami il gruppo sanguigno alle persone non lo è perché allo stesso gruppo sono associate per fortuna tante persone se no la trasfusione sarebbe un problema d'accordo ok quindi ecco così entriamo per funzione ogni relazione univoca un altro esempio di relazione quello di prima dove era aspetta eccola qua il quadrato x la seconda l'abbiamo già vista in lungo in largo quando abbiamo fatto geometria analitica come grafico la parabola ok un modo cui posso vedere graficamente la proprietà dell'essere univoca è il seguente se ho una funzione univoca e ne considero il grafico allora la funzione univoca se ad ogni x corrisponde una sola y cioè se tagliando il grafico con una retta verticale ho un'unica intersezione allora una funzione questa è una funzione univoca y uguale a f di x è una funzione in senso proprio se invece consideriamo il grafico come abbiamo già fatto nel corso di geometria analitica ad esempio di una circonferenza questa la circonferenza del grafico di qualcosa che non è una funzione perché se lo taglio con un'asse verticale cioè a questa x corrispondono due y diverse questa non è univoca certo fatemi cambiare il colore del grafico questo lo metto in verde così si capisce meglio mentre la circonferenza che vorrei disegnare in rosso non è il grafico di una funzione perché ha due diverse intersezioni per ogni x ho due y diverse quindi non è univoca ok c'è una domanda? fatemi spendere due parole sul significato del grafico della funzione noi abbiamo già visto grafici di funzioni tutto sommato elementari ok il grafico è molto importante abbiamo visto le equazioni o le funzioni di primo grado fanno come grafico una retta esempio y uguale mx più q quindi di secondo grado fanno come grafico una conica la parabola, la circonferenza, l'ellisse, l'iperbole ok uno degli strumenti che usiamo quest'anno il calco differenziale ci permette di andare a studiare la forma analitica di una funzione per dedurne le proprietà grafiche e quindi dalle equazioni di qualsiasi tipo potrò farne il grafico questo è uno degli utilizzi degli usi principali del calcolo differenziale individuo strumenti che mi consentono di data l'equazione che ho davanti cioè la forma della funzione andare a stabilirne che tipo di quali sono le sue proprietà grafiche principali ok questo utilizziamo il calcolo differenziale e comincieremo con quello anzi il primo step è il concetto di limite che vedremo su questo costruiremo il calcolo differenziale per arrivare ad afferrare meglio il concetto di limite secondo me prima ci focalizziamo su su ah no scusate devo ancora precisare il calcolo di grafico che cosa si intende per grafico di una funzione ora abbiamo visto che la funzione propriamente detta è una relazione univoca tra due insiemi da A a B ad ogni elemento di A associo uno e un solo di elemento di B se A e B sono insiemi numerici quindi se A e B sono insieme di numeri reali allora la funzione Y uguale a F di X cioè la funzione che prende il numero X e in base a determinate regole di calcolo ti permette di calcolare Y può essere rappresentata graficamente che cos'è il grafico di una funzione? beh immaginate il piano cartesiano l'insieme di tutti i punti del piano le cui coordinate verificano l'equazione della funzione è il grafico della funzione stessa cioè per grafico della funzione intendo l'insieme di tutte le copie X Y appartenenti al piano il piano è il prodotto cartesiano R per R tali che Y vale F di X cioè l'ordinata e la scissa della funzione verificano verificano l'equazione e la funzione stessa abbiamo già visto che se questa equazione è di primo grado il grafico è una retta se è di secondo grado sarà una conica in futuro in futuro dei punti del piano dei punti del piano quindi delle copie XY appartenenti al piano reale R2 significa è tutto il piano reale il prodotto cartesiano R per R perché R per R insieme di tutte le copie di numeri reali questo è un prodotto cartesiano R per R quindi il grafico è un sottoinsieme di questi punti le cui coordinate soddisfano questo legame faccio l'esempio semplice se ho la funzione Y uguale a F di X di tipo che ne so 2X più 1 ok allora il grafico di questa funzione che è una retta passerà per il punto 0,1 ok per il punto meno un metro 0 e questo qui lo potremo disegnare in verde perché? perché tutti i punti che stanno su questo grafico avranno coordinate X e Y che stanno in questa relazione la Y è il doppio della X aumentata di 1 quindi se questa fosse che ne so 1 questa sarebbe 3 6 6 5 questo è 11 via dicendo ok così via qui in un caso semplice della retta è facile vedere abbiamo già visto come si fa a fare il grafico impareremo a farlo per le equazioni più complicate ok allora ho la retta ho l'equazione Y uguale a 2X più 1 quindi questa funzione per ogni scelta che fai del numero X associa a X il risultato di moltiplica per 2 somma 1 è qualsiasi cosa X appartiene ai numeri reali X è quello che vuoi tu ma è quinta nel grafico X è sull'asse delle X è questo qui è un numero che scegli qui scegli un numero su questo asse ne calcoli 2X più 1 e costruisci il punto le cui coordinate verifiano questa equazione io ne ho trovati 2 perché so che è una retta 1 0 è 1 e l'altro è meno un mezzo 0 perché so che è una retta che me ne bastano 2 ok se invece fosse una conica ne avrei bisogno di almeno 3 punti se non è neanche una conica dipende da come è fatto il dipende da come è fatto è uno degli obiettivi del corso di quest'anno che cosa devo considerare per avere un'idea almeno qualitativa di come è fatto il grafico di che caratteristiche ha d'accordo dato il ruolo chiave delle funzioni in questo perché andiamo a esaminare ripeto come cambia una grandezza se è funzione di un'altra e viceversa torniamo a chiarire il concetto di funzione qui ne abbiamo visto il grafico come si rappresenta graficamente sul piano cartesiano d'accordo uno dei concetti chiave delle funzioni delle caratteristiche base quindi funzioni è la sua classificazione cioè che mi dice che tipo di funzione è la prima grossa classificazione è quella delle funzioni analitiche dico che una funzione è analitica se posso descriverla completamente con una formula se non è analitica la do per via numerica o comunque non analitica faccio un esempio la quella di prima la retta y uguale a 2x più 1 è una funzione analitica perché riesco a scrivere in modo semplice quali operazioni mi consentono di passare da x a y e questa è la sua formula se invece considero x un giorno della settimana e y il tempo che impiego per arrivare a scuola ok è chiaro che tra un giorno all'altro può cambiare parecchio perché c'è traffico diverso perché mi sveglio presto o mi sveglio tardi perché magari un giorno arrivo prima un giorno arrivo dopo comincio la seconda ora dipende dalla giornata e non ho una formula analitica che esprima questo la do solo per ne do solo i valori numerici posso fare per esempio una media ecco però non ho una formula esatta precisa che mi dica il giorno x quanto tempo ci metto per venire a scuola esattamente in quel caso la formula è di tipo numerico è una formula che deduco dall'esperienza in quel caso l'espressione è non analitica all'interno di quelle analitiche posso considerare due grandi famiglie quelle le funzioni algebriche e quelle trascendenti attenzione non trascendentali trascendenti questo è un termine filosofico che gli studenti scambiano molto spesso con la matematica quelle algebriche sono tutte le funzioni che si possono esprimere con le sole operazioni dell'algebra somma differenza prodotto rapporto potenza radice quelle trascendenti sono tutte le altre quindi con trigonometriche esponenziali e logaritmi ad esempio le algebriche si possono suddividere ulteriormente in razionali o irrazionali a seconda che la grandezza x appaia sotto segno di radice oppure no e ancora come intere oppure fratte a seconda che l'incognita che la x la variabile appaia denominatore oppure no razionali razionali sono quelle dove l'incognita la x non è sotto segno di radice quelle irrazionali dove la x figura sotto segno di radice quelle intere hanno denominatore senza x quelle fratte la x appare al denominatore attenzione una grossa differenza tra le algebriche e le trascendenti che le algebriche possono avere un grado posso caratterizzare il grado di una funzione algebrica ma non esiste il grado di una trascendente le funzioni trascendenti sono senza grado non hanno grado facciamo un esempio prendiamo un esempio che ne so del libro perché sono diverse ecco questa questa funzione non so se la vedete è una funzione analitica perché è espressa da una formula è algebrica perché comporta operazione di somma prodotto rapporto e potenza ok non ci sono segni cosenni logaritmi esponenziali ok è fratta perché la x appare al denominatore ed è razionale perché non ci sono radici la x non appare sotto segno di radici come faccio a determinarne il grado per determinare il grado devo riscriverla come intera razionale cioè devo eliminare i denominatori se ci sono e eliminare le radici se ci sono quindi qui basta moltiplicare a destra a sinistra per il denominatore quindi ho y per 2x più 5 uguale a x alla seconda più 1 tolgo le parentesi 2xy più 5y uguale a x alla seconda e osservo che grado hanno i monomi qui ho un monomio che è x per y questo è un grado 2 qui ho y questo è un grado 1 qui x la seconda grado 2 questo è di grado 0 perché non c'è né x né y il grado del monomio più alto mi dà il grado della funzione quindi questa è di secondo grado ok quindi ripeto quindi la classificazione della funzione è analitica algebrica razionale fratta di secondo grado d'accordo facciamo un altro esempio y uguale a radice di x più 1 questo è un altro esempio questa è sempre l'analitica algebrica questa volta invece è irrazionale perché la x è sotto radice ed è intera perché non ci sono x denominatori per determinare il grado la trasformo in intera lo è già irrazionale cioè devo tirare via la radice e levo il quadrato quindi qui ho y al secondo è uguale a x più 1 y al secondo è di secondo grado questo è di primo grado grado 0 il grado più alto è 2 quindi è di secondo grado ok perché è importante classificare correttamente una funzione intanto per descriverla correttamente in seconda istanza classificarla correttamente mi guida nell'analisi della funzione perché perché quanto tempo abbiamo perché il primo oggetto che vedremo della funzione o a parte la classificazione sarà il suo dominio cioè quali sono l'insieme di valori che posso dare alla x affinché la funzione sia calcolabile la ricerca del dominio dipende dal tipo di funzione cioè la classificazione mi guida in questo e anche nell'argomento successivo cioè il segno che segno ha la funzione quando assume valori positivi negativi o nulli anche questo tipo di analisi dipende dal tipo di funzione che ho davanti è come che ne so dire la cura che devo dare a un paziente dipende dalla malattia del paziente se prima non conosco la malattia non riesco mai più a determinare la cura quindi prima classifico la funzione e dopo vado alla ricerca del dominio e dopo del segno ma questo lo vedremo nella prossima lezione ci sono domande fin qua se no ci fermiamo ok molto bene